Tauria Nova. Sono ormai tre giorni che i cittadini di Tauria Nova fanno i conti con la carenza idrica, nonostante domenica il responsabile dell'ufficio tecnico del comune Giuseppe Cardona avesse assicurato che la situazione sarebbe stata risolta entro la stessa giornata. La carenza, secondo quanto fatto sapere dal commissario straordinario Aldo Lombardo, è dovuta ad un guasta la rete idrica. I pezzi per sistemare il motore arriveranno forse domani, quindi si prospettano almeno altri due giorni di disagi. Tra i cittadini intanto cresce il malcontento.